Musica Riaprirà domani il pronto soccorso dell'ospedale Maresca, come precedentemente annunciato dalla Direzione Sanitaria dell'Asla Napoli 3 Sud, ai microfoni di TV City. Le attività riprenderanno a partire dalle 8 di domani mattina. Dopo il completamento dell'iter procedurale conclusosi nel pomeriggio di ieri, si sono determinate le condizioni tecniche ed organizzative per la ripresa delle attività di pronto soccorso medico-chirurgico generale, come si legge nella nota inviata dalla Direzione Sanitaria ai responsabili dei reparti, per definire l'organizzazione dei turni di lavoro. La Direzione Strategica, Asla Napoli 3 Sud, fanno sapere dall'ufficio stampa, ha provveduto alla riorganizzazione degli spazi interni e delle funzioni ospedaliere in precedenza modificate per far fronte all'emergenza coronavirus, in modo da favorire la ripresa delle attività di pronto soccorso. Non solo, il reparto è stato anche oggetto di una ristrutturazione mirata all'attivazione di sei posti letto di terapia subintensiva. Il pronto soccorso fu dismesso lo scorso 15 ottobre a seguito della trasformazione dell'ospedale torrese in Covid Hospital, con una dotazione di 26 posti letto per pazienti a bassa media intensità. A seguito dei lavori presso il blocco operatorio del terzo piano del vecchio padiglione, a partire dal 6 giugno scorso, sono riprese le attività chirurgiche con la disponibilità di due sale operatorie. Un ulteriore passo verso il superamento delle criticità imposte dalla pandemia, che ha obbligato l'esecuzione degli interventi chirurgici presso la sola sala operatoria correlata alle attività di gastroenterologia. Una buona notizia per l'utenza di Torre del Greco e dei comuni vicini, costretta alla perigrinazio tra ospedali in caso di urgenze o emergenze. Il ripristino delle attività, tuttavia, è solo il primo passo verso un potenziamento della struttura sanitaria. Un rilancio atteso da anni dal territorio, dopo battaglie e mobilitazioni a tutti i livelli.